Signore e signori buongiorno, ci troviamo su via Napoli all'incrucio con via Galilei. All'indomani della delibera della commissione prefettizia che impone il lockdown per i commercianti ad Arzano, scoppia la protesta. I commercianti hanno bloccato l'incrucio via Galilei in via Napoli. Non sono per niente d'accordo con questa decisione. Il commercio è già in ginocchio di per sé, non si aspettava questo colpo mortale. 10 giorni fermi, poi la ripartenza sarebbe veramente drastico per l'attività dei commercianti. Il lavoro è l'unico vaccino, dice Cinciatrice.